Eccoci qua con Naruto Uzumaki Chronicles, carichiamo i dati Caricamento dati della memory card versi 2, caricamento completato Bene, vediamo un po' che ci aspetta in questa magica avventura di Naruto Uzumaki Chronicles Dai Ah Non ho messo una missione Che cazzo Adesso dove sono questi cosi bianchi e gialli perché Ok ci posso andare, mi sa che sono tipo missioni secondarie Adesso ci guardiamo Se così ho fatto una cazzata di andarci in qualche parte fa Oh c'è mi come si chiama Giraglia Giraglia si Ma che cazzo vuoi Ehi Non ho risposto di sì Vabbè Vediamo un po' cosa ci tocca fare Sono un po' di Di Allergia Per colpa De polline Adesso non so Tipo Vediamo che è l'allergia Sconfiggi il maggior numero di nemici in tutto il tempo limite Più ne elimini Migliori saranno gli oggetti che riceverai alla fine Ah sì Tipo Fa fuori tutti qua Adesso devo riprendere la mano perché è da qualche giorno che non gioco Cioè voi vedete tipo che è il giorno dopo che ho registrato Ma in realtà non è così No 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 Aiuto No Sto al punto per dire Vediamo se ancora giunge Non è così Non è così Combo Combo però E vai 30 Mi sa che non sono mai arrivato a 30 Non in questo adesso Fuck Fabbiamo a capire che cazzo intende con punti Mi chiedo se le tecniche di moltiplicazione conti come combo Si conta come combo Mannaggia Sono scesi tipo Presente i modelli 3D Così Ma perché Ai ai mi stai facendo male Durino bastardo Brutto bastardo Hai ucciso Kenny Mi ha ucciso 30 Non è male Secondo me Non so se magari il gioco dice No no è male Devo uccidere almeno 999 Perché per me 30 è un buon risultato Almeno mi sembra così Cosa? Finiti? Ehi Come? Finiti? Pensavo che fossero tipo Non so Infiniti E poi quando finivi Che delusione Che delusione Non sei nulla In confronto al capo Di cui la citazione è un grande Che cosa? Non si capisce bene che cazzo succede con sto gioco però Dai No comunque Da me sto andando malissima credo Vado per intuizione Ma magari invece Ma che cazzo Guarda che ti penso Non so che è un'altra tecnica di sostituzione No come si chiama Di seduzione Ecco La tecnica seducente Adesso se Vediamo cosa fa Ah però non li ha uccisi Ovviamente non è che è una cosa che uccide Però Visto quanto abitano in questa modalità Non è che cazzo Sostituzione Anche se in realtà è la moltiplicazione Vedrò che se ne fotte Ah questa qui è la tecnica di sostituzione Che diventano un tronco Me l'ha detto anche Collor Qualche parte fa Beh finita Si manca un secondo Gioco Non Non fare cazzate Manca un secondo Gioco Cosa mi fai fare In terzo livello Niente Eh sono bloccati Mmm Ho fatto bene ho fatto male Ricco un pen Ma dai che schifo Che me ne faccio delle stelline ninja Non uso mai Ma che me ne fotte Preferivo l'esperienza sinceramente Abbiamo un po' cazzate nell'altro Allora È enough Mmm Non ti fatto molto Grazie Sento Per la prossima Purvi Sage Vieni Poi 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 Non ci arrabbi Non ci arrabbi Eh eh Oh Non mi ha dato Guarda, tu puoi tornare ogni volta che vuoi. Ok, in questo momento qua, soldi e soldi, ciao, non sono soldi, questi qua è virtù, le esperienze, sono i punti EXP, ma come parli tizio, un amico mio hai bisogno di imparare a parlare, adesso ti insegnò, sono dei pugni in buco, vai, cazzo, sì, punti virtù, questo è ciò che Naruto fa, uccide la gente per rubargli i punti virtù, vede che sono qua, mi fermo al villaggio così recupero vita e prendiamo la seconda missione alternativa, vediamo che c'è spesso in questa magica missione, fatta di, non lo so, esciamo dal villaggio, esciamo dal villaggio perché è giusto sbagliare i verbi, vediamo un po' che ci aspetta in questo puntino giallo, vai Naruto, cammina perché è così che fanno i veri ninja, camminano, c'è un po' di interrogativo lì, cacchio se sapevo così col cazzo che venivo qua, vabbè, com'è che adesso tutte le missioni secondarie possibili si sbloccano fino a poco fatti, poi erano rarissime, vabbè vediamo un po' che ci aspetta, eh, un filmatino, yeee, mo' sa tipo che bisogna fare la missione del ninja, si bisogna fare, eh, la missione che abbiamo già fatto, cosa? cosa? ah, eh, quick time event, tipo Jack and Dexter, così x, x, quadratto l'ha fatto, uè, ha fatto quadratto rosso, come che cazzo? eh, cazzo, eh, eh, no vabbè, perché mi sono distratto, no? comunque è pop a loro sta missione, devo essere sincero, eh sì, è veramente una merda sta missione, che palle cioè tipo, sta missione qua ti prende per sfinimento, appena non ne puoi più appena non ne puoi più, no? e sta missione qua ti fa sbagliare perché appunto ti rompi il cazzo anche i tasti direzionali adesso boh, perfetto ho sbagliato ma mi va benissimo così, no, non vorrebbero, mi sono tolto il padre cercare di fare qualcosa di costruttivo in sta parte anche se ormai il tempo è finito, cioè, non è che è finito, eh, siamo molto avanti col tempo non so se mi conviene iniziare una missione una cosa se ho sbagliato per due volte mi insegnate, ok, Naruto? Naruto! Naruto, vattene via Naruto con Navarro in realtà è un assassino che si attraversa da bambino per uccidere c'è una missione alternativa anche qua ma no no no, le scimmie non ci tornano più ok, visto che ho passato un sacco di tempo direi che possiamo andare nel villaggio Ok, questa parte qua è servita solamente Per completezza, per vedere le missioni alternative Ok? Non Lamentatevi dicendo, potevi andare avanti Perché no? Le missioni trovano un bordello Quindi ci vediamo alla prossima parte Questa è la prossima, ciao